I Gran Premi all'Ippodromo dell'Arcoveggio di Bologna sono come le ciliegie, uno tira l'altro. Non si è ancora spenta l'eco della vittoria del favorito Zefiro Dette, guidato da Gaetano Di Nardo, nella finale del campionato italiano dei 4 anni, che arriva alla finale del campionato italiano Master, riservata ai cavalli di 5 anni e oltre, in programma giovedì 26 dicembre, e il 6 gennaio chiusura in grande stile della stagione del Gran Premio della Vittoria. Per quanto riguarda domenica 26, i cavalli che parteciperanno a questo evento conclusivo del campionato dei Master, 2000 metri anche per loro, una serie di partecipazioni di assoluto prestigio, ci attendiamo a Raziboco che è stato il mattatore di questa stagione e che per noi di Ippogrupp rappresenta il vincitore, il duplice vincitore del campionato europeo di Cesena. La giornata di domenica 22 dicembre resterà nella memoria dell'arcoveggio, non solo per le molte iniziative dedicate soprattutto ai bambini come il battesimo della sella e l'estemporanea di pittura con tema I cavalli di Leonardo, ma anche per l'inaugurazione del restyling della galleria sotto la tribuna, con tanto di gigantesca torta. Abbiamo fatto un intervento, un restyling a tutta la tribuna qui dell'ipodromo arcoveggio di Bologna, abbiamo cercato di fare un intervento mantenendo le caratteristiche che già aveva la sala, quindi abbiamo ripreso il disegno delle vetrate storiche per creare un nuovo ritmo all'interno di tutta la galleria che è lunga più di 70 metri. Giovedì 26 dicembre all'arcoveggio ci sarà anche la finale del trofeo Gentleman for Life, grazie al quale sarà donata un'apparecchiatura al reparto neonatale degli ospedali riuniti di Ferrara.